L'arrivo delle volanti della polizia e poi l'intervento dei sanitari del 118 in via Madonna del Prato, ancora un episodio violento nel fine settimana nel cuore del centro storico di Arezzo. Eravamo preoccupati, che cosa succede? Che sta succedendo qui sotto? Stavano portando via un ragazzo in ambulanza, voglio dire, nemica una guerra, divertimento. È successo nella notte tra venerdì e sabato di fronte a una discoteca. Attorno alle tre l'arrivo dell'ambulanza dell'emergenza urgenza e due auto della polizia di Stato. Questa zona qui della stazione, via Guido Monaco, via Spinelli, sembra come lasciata andare. Una lite tra due giovani degenerata. Dietro al diverbio ci sarebbero futili motivi. Stando a quanto è emerso, uno dei due sarebbe stato sotto l'effetto di alcolici e avrebbe voluto fare ingresso in discoteca, ma sarebbe stato fermato da un addetto alla sicurezza. L'episodio è rimasto circoscritto, ma è comunque forte la preoccupazione da parte di residenti e commercianti della zona. L'ennesima scazzottata, sangue, cose del genere. Vediamo i risultati la mattina quando torniamo ad aprire. Sangue da tutte le parti, la sporcizia, che non va bene. Solamente una settimana fa, un accoltellamento lungo corso Italia, nella circostanza erano rimasti feriti due ventenni, un episodio che aveva anche portato alla chiusura di un bar a retino. Certo non abbiamo la bacchetta magica, ma la prevenzione è importante, ma insieme alla prevenzione ci vogliono anche controlli. Io non voglio colpevolizzare nessuno, per carità, però qualcuno le responsabilità se le deve prendere.